Adunque, non è necessario avere infatto tutte le qualità, ma è bene necessario parere di averle. Anzi, arriverò di dire questo, che avendole e osservandole sempre sono dannose e parendo di averle sono utile, come parere pietoso, fedele, umano, intero, religioso ed essere. Ma stare in modo edificato con l'animo che, bisognando non essere, tu possa e sappi mutare il contrario. E tassi ad intendere questo, che uno principe, e massime uno principe nuovo, non può osservare tutte quelle cose per le quali gli uomini sono ritenuti buoni, sendo spesso necessitato, per mantenere lo Stato, operare contro alla fede, contro alla carità, contro all'umanità, contro alla religione. E però bisogna che egli abbia uno animo disposto a volgersi, secondo che venti e le variazioni della fortuna li comandano. E, come di sopra disse, non partirsi dal bene potendo, ma sapere entrare nel male necessitando.